E' stata abbracciata dalla sua comunità d'origine, quella di Solofra, Maria Rosa Troisi, la mamma 37enne uccisa a Battipaia dal marito Marco Aiello. Il suo ultimo viaggio si è compiuto infatti in territorio erpino. Prima la camera ardente nella chiesa di San Rocco, nel centro storico, dove hanno avuto accesso a bara sigillata anche i due figli di Maria Rosa, una femminuccia di 9 anni e un maschietto di 6, i quali sanno solo che la mamma non c'è più, ma non conoscono le reali modalità con cui è avvenuta la sua morte. Per lei hanno lasciato un foglio bianco con scritta una poesia, poi sono stati riaccompagnati a Battipaia dai nonni paterni con cui abitano. Il feretro ha dunque raggiunto alle 16.30 la collegiata di San Michele Arcangelo per le esequie. Non c'era nessuno della famiglia Aiello, presenti invece i due fratelli di Maria Rosa, unici parenti in vita, arrivati dall'Inghilterra dove vivono. A stringersi dunque attoniti e addolorati attorno alla bara, la comunità irpina dove Maria Rosa è cresciuta, anche se da tempo l'aveva persa di vista, il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, gli amici che hanno deposto dei fiori sul feretro. A Battipaia invece la sindaca francese, in concomitanza con i funerali, ha ordinato bandiere a mezzasta al comune in segno di lutto. Intanto le indagini proseguono. È stato dato in carico all'ingegnere informatico Luigi Scocozza per una perizia sui tre cellulari rinvenuti nell'abitazione della coppia alla ricerca di messaggi e video che possano spiegare lo sfondo su che è avvenuto l'uxoricidio. Una coppia in crisi dove la gelosia aveva preso il sopravvento e i litigi erano ormai quotidiani. Tra 50 giorni il deposito della perizia. Dalle risultanze dell'autopsia inoltre si attende la risposta circa un presunto principio di gravidanza di Maria Rosa, segnalato da un test e che ora deve trovare riscontro dalle analisi.